Ciao a tutte e benvenute o bentornate sul mio canale. Nuovo episodio dell'ora del tè insieme. Questo tè si è trasformato dato che ormai fa troppo caldo per la tazza bolletta e quindi berremo molto elegantemente un tè freddo nel calice di vino. Mi piace un sacco bere le cose nel calice di vino, mi fa sentire un po' più chic, infatti spesso anche quando facciamo l'aperitivo qua in casa non beviamo quasi mai alcol a meno che non ci siano ospiti, quindi facciamo cedrata, limonata, tè sempre nel calice di vino. Episodio di oggi di cosa parliamo? Diciamo che oggi parliamo di una cosa che è un argomento su cui posso dare poche lezioni o almeno mi piacerebbe potervi dare qualche consiglio, ma in realtà è una di quelle cose su cui predico bene ma razzolo malissimo. Infatti questo è più un video per me stessa, più uno sfogo, perché proprio per me è un tasto dolente e parliamo di aspettative, ovvero come le aspettative ci rovinano la vita. Io ormai sono espertissima in questa cosa perché vivo di aspettative deluse, ma andiamo per gradi. Se mi seguite da un po' ormai avete imparato anche a conoscermi e sapete che mi piace sognare in grande, viaggiare con la fantasia, la mia mente è sempre perennemente in moto, va a 3000 e nella maggior parte dei casi anticipa il futuro. Alla mia mente piace immaginare come sarebbero le cose, sapete che mi piace parlare anche di visualizzazione, credo tantissimo nella manifestazione e nella visualizzazione, però la mia mente tende ad andare un po' a briga sciolta e attenzione non è sbagliato sognare in grande, avere standard alti, avere grandi obiettivi, però la cosa sbagliata e ho imparato le mie spese è aspettarsi le cose, soprattutto quelle su cui non abbiamo grande potere, che non dipendono da noi. Faccio questo video anche per sentirmi un po' meno sola, proprio perché è una cosa su cui casco sempre praticamente, io ho aspettative su tutto e su tutti, vivo costantemente la vita aspettandomi cose, sia dalla vita in generale ma anche magari delle altre persone e purtroppo quando ci aspettiamo qualcosa di molto preciso dagli altri soprattutto finiamo quasi sempre per rimanere deluse, perché è difficilissimo che le cose vadano esattamente come le abbiamo immaginate. Io per esempio sembro tanto carina così, tendenzialmente sono una persona molto positiva e sorridente, però sono anche una che perde facilmente il controllo, quando le cose non vanno come voglio io mi innervosisco facilmente, magari mi metto a piangere, perdo proprio il controllo, mi posso definire una maniaca del controllo, cerco di avere il controllo su tutto e quando lo perdo, perdo un po' anche me stessa. Se volessimo fare un'analisi complessiva potremmo dire che questo è anche quello che spesso mi porta ad allontanarmi dalle persone, magari a sentirmi un po' più sola, proprio perché carico le relazioni, le persone di tantissime aspettative. Mi aspetto che le cose vadano in un determinato modo, mi aspetto che gli altri facciano determinate cose e quando questo non succede per me è tipo una catastrofe. Non so se tra voi c'è qualcuno un po' come me, però immaginate quella volta che ci siete rimaste male perché un'amica, un amico, un fidanzato non ha fatto quello che vi aspettavate, magari voi siete delle persone che date tanto, vi credete di dare tanto e quindi l'errore che le persone come noi fanno è aspettarsi che gli altri ci diano allo stesso modo. Il problema è che io razionalmente per esempio so che gli altri non ci potranno mai dare come ci aspettiamo noi, non per cattivare perché non ce lo vogliono dare, ma semplicemente perché il loro dare sicuramente sarà diverso dal nostro dare. Ognuno di noi è diverso, esprime interesse, affetto in maniera diversa e questa cosa è un po' difficile da capire perché tendenzialmente siamo tutti degli esseri abbastanza egoisti. Ognuno di noi ha una visione abbastanza egocentrica del mondo, non perché siamo delle brutte persone, ma proprio perché siamo abituati a vedere il mondo con i nostri occhi, a leggere con i nostri occhi e con la nostra mente, quindi diamo per scontato che anche gli altri interpretino le cose allo stesso modo in cui le facciamo noi. E questa è la cosa più stupida del mondo, che però continuiamo a fare all'infinito. Io stessa vi sto dicendo queste parole, quindi razionalmente arrivo a questa consapevolezza, però una cosa è la consapevolezza, altra cosa sono quelle azioni, perché quando ci troviamo a vivere determinate situazioni, magari con un certo grado di emotività, è molto più difficile rimanere distaccati e razionali. Qualche episodio fa abbiamo parlato dell'importanza di essere egoisti. Questi episodi in un modo o nell'altro, per quanto la cosa non sia studiata, sono sempre concatenati tra loro e se siete come me, magari siete anche abbastanza generosi giver nella vita, quindi magari vi piace dare, essere a disposizione, offrirvi per fare le cose, proprio dare agli altri. E quando siete con me, vi sembra appunto di dare sempre e magari siete poco attente a quello che invece ricevete. Parlo sempre per l'esperienza, perché io magari penso di dare tanto e magari mi aspetto dagli altri altrettanto, quando in realtà il loro modo di dare a me è semplicemente diverso dal mio, non è di meno. Se nella vita avete la fortuna di avere delle persone con cui potete parlare con maturità e in profondità, sicuramente riuscirete a capirlo meglio, perché quando vi sembra di dare 100 e ricevere in cambio 10, se potete parlare con quella persona magari vi accorgerete che quello che voi interpretate come 10 in realtà è il suo 100 e a sua volta l'altra persona in voi vede delle altre mancanze. Perché in un modo o nell'altro tutti abbiamo delle aspettative. C'è chi come me rimane vittima delle aspettative, perché io sono effettivamente sempre vittima delle mie aspettative, perché ci rimango malissimo, proprio male, male, male quando le cose non vanno come vorrei, quindi alla fine quella che se la vive peggio sono sempre io, perché sto male alla fine. E c'è chi invece riesce ad avere delle aspettative, perché le abbiamo tutti, ma chi non vive basandosi su queste. Io vi auguro di essere delle persone così, perché altrimenti siete come me e vivete sempre male. O meglio, secondo me questo è il nostro più grande potere e allo stesso tempo più grande condanna, perché quando si hanno aspettative alte nella vita tendenzialmente si è delle persone ambiziose che si mettono in gioco, che aspirano ad avere cose migliori e quindi di base spesso ci riescono. Però allo stesso tempo vivere soltanto con aspettative che devono essere per forza quelle, non avere la flessibilità mentale di accettare quello di diverso che arriva, oppure di vivere il momento così come, anche se non è come l'abbiamo immaginato noi, ecco questo può essere un gran bel problema. Penso che per me questa sia la cosa in assoluto più difficile su cui devo lavorare, perché si scontra con la mia determinazione molto alta. Sono testarda e tendenzialmente cerco di fare sempre in modo che le cose vadano come voglio io, impegno, lotto per le cose che desidero, quindi vado un po' in contrasto con me stessa e sto faticando davvero tantissimo per lavorare sull'essere un po' più presente, sull'accettazione. È importante imparare ad accogliere e ad accettare, anche perché non avete idea di quanti momenti, anche importanti, mi sono rovinata, semplicemente perché non sono stata in grado di accogliere quello che mi arrivava, di avere la pazienza, di attendere che arrivasse il momento giusto per determinate cose. Magari le cose sarebbero andate addirittura meglio di come le avevo immaginate io, però non me le sono vissute bene proprio perché ero col pensiero a quello che avrei voluto e non è andato. Vi giuro, è una sensazione bruttissima che non auguro a nessuno, ma è anche una cosa su cui faccio proprio fatica ad avere il controllo. E ho deciso di scegliere questo come argomento di questo episodio, a parte perché ormai sapete che in questa rubrica vengono fuori tutti i miei dati più vulnerabili e intimi, e poi perché voglio proprio dimostrarvi che ognuno di noi ha i suoi talloni d'Achille. Ognuno di noi vive le proprie battaglie e di solito le battaglie più difficili da combattere sono quelle contro noi stessi. Crescere vuol dire anche mettersi in discussione, capire che alcune cose per come le abbiamo sempre fatte non vanno bene, che anche se fanno parte del nostro carattere, della nostra natura, bisogna lavorarci su per non dico eliminarle perché probabilmente io non eliminerò mai le mie aspettative, non smetterò mai di avere aspettative, però lavorarci su per almeno mitigarle, quindi in questo caso invece che vivere di aspettative, avere delle aspettative ma imparare ad accettare anche quando le cose prendono una piega diversa. Anche perché spesso le cose magari prendono una strada diversa ma alla fine ci conducono comunque dove volevamo arrivare, bisogna imparare ad avere un po' più di fiducia, che tra l'altro io sono quella che dice sempre che al come ci pensa l'universo ne dobbiamo soltanto stabilire il cosa, poi il come ce lo procurerà l'universo, però faccio ancora fatica a fare mio questo pensiero. Ci credo, ci credo ciecamente, però poi metterlo in pratica nella vita di tutti i giorni, come sempre, è un'altra storia. La lezione più importante che sto imparando nella mia vita da adulta e anche quella che mi dà le batoste più forti è che è l'aspettativa che ci frega sempre. Dovremmo tutti essere più aperti mentalmente verso l'inaspettato e anche verso gli altri, quindi dovremmo lasciare che il mondo e gli altri ci sorprendano. Non sempre ci sorprenderanno positivamente, però in alcuni casi sì. Questi episodi, ormai l'avete capito, sono dei flussi di coscienza, non sono mai preparati, scelgo soltanto l'argomento e poi lascio fluire tutto quello che mi passa per la mente. Per questo nello specifico non ho una vera conclusione, non ho una vera soluzione. Se l'avete voi sono più che felice di ascoltare se avete una soluzione a questo mio dilemma morale e mentale. Fatemi sapere se avete qualche escamotage per imparare a gestire le aspettative, oppure fatemi sapere se anche voi siete delle vittime delle aspettative, se anche voi siete delle maniache del controllo che non riuscite a lasciare andare e ad accettare nulla di diverso da quello che vorreste. Fatemi sentire meno sola, vi prego. E fatemi sapere anche se avete altri argomenti da suggerire per i prossimi episodi. L'ora del tè insieme nasce un po' come rubrica invernale, perché me la immagino molto così, con la tazza di tè caldo, magari al chiuso mentre fuori piove. Però, come vedete, possiamo anche renderla un po' più estiva, magari sceglieremo degli argomenti un po' più leggeri. Fatemi sapere anche voi di cosa vi piacerebbe parlare. Quale argomento vi piacerebbe che io tratta passi con questo mio flusto infinito di pensieri. Come sempre lo sapete mi fa super piacere leggervi nei commenti. Detto ciò, io vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, vi mando un bacione e ci vediamo presto al prossimo video.